Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 a causa di un veicolo in fiamme chiuso il tratto in direzione Roma tra Barberino e Calenzano, nel tratto chiuso si sono formati 3 km di coda tra Aglio e Barberino, un chilometro di coda tra Barberino e Calenzano. Sulla A12 per lavori in direzione Livorno, un chilometro di coda tra Sarzana e Massa, code a tratti tra Massa e Versilia. Sulla Fipili per incidente, un chilometro di coda tra Ginestra e Lastra in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Casetta-Monteaperti e Castelnuovo-Berardenga e tra Rapolano e Colonna del Grillo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!